Ciao a tutti, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni per l'inverno 2021-2022 per i segni della vergine. Vi ricordo sempre che sono previsioni generali fatte per un collettivo e che quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Voi prendete i messaggi che vi servono e quelli che no, semplicemente lasciate di andare all'universo. Per avere poi un messaggio più ampio vi consiglio anche di andare ad ascoltare il vostro ascendente e il vostro segno lunare. Mostrami vergine, inverno 2021-2022. Vergine abbiamo la luna. Quindi cari amici della vergine si tratta qui di un lavoro di tipo interiore, è come se questo inverno portasse diciamo una sorta di raccoglimento in voi che potrebbe essere un raccoglimento di idee piuttosto che di emozioni o semplicemente per qualcuno porterà a rielaborare magari determinati tipi di comportamenti, insomma. Per qualcuno potrebbe voler dire che guardate la luna un'altra volta che vengono a galla determinate cose, ok? Andiamo a vedere adesso con i tarocchi. Allora, abbiamo un asso di coppe, la luna al contrario, la morte al contrario, l'imperatrice al contrario, il cinque di coppe al contrario, wow! Amici della vergine, qualcuno qui si è mosso in qualche tipo di direzione, si è aperto, mi verrebbe da dire, ha aperto il cuore con questo asso di coppe. C'è comunque quello che è un inizio di un qualche cosa, di un amore. Per qualcuno potrebbe essere la nascita di un figlio, nel senso che si è partorito da poco. Vedo che comunque c'è questa sorta di... la luna vi esce due volte, una volta al dritto, una volta rovesciata. C'è un qualche cosa che sta venendo a galla, c'è un qualche sorta di velo che si sta togliendo. Vedo che è una cosa che inevitabilmente sta venendo fuori, ma che forse non si vuole poi così tanto vedere, non si vuole poi chiudere questo ciclo e iniziare un nuovo, non si è in questa fase di abbondanza, ok? C'è una sofferenza, si sta cercando comunque di elaborare una sofferenza, o meglio, è come se si stesse rivalutando un certo tipo di situazione, magari passata. Vedo che comunque gennaio è un periodo di lavoro interno, dove si sta cercando comunque di nuovo di rivivere quel tipo di abbondanza che si aveva, magari. Con il 5 di coppe ho forte la sensazione che qualcuno stia un po' rivalutando le scene. Probabilmente prima ci si faceva carico di tutto quello che era stato il passato, e invece adesso con questo lavoro che suggerisce la luna è un po' come il rendersi conto che la colpa non era proprio 100% vostra, ma c'è stato, diciamo, un contributo anche da parte che sia di una situazione piuttosto che di una persona, e che sento che c'è stata un'apertura da parte vostra, può essere verso qualcuno, verso un determinato, una situazione, no? o una relazione più in generale, anche se non è proprio affettiva, romantica, potrebbe essere una relazione magari di tipo familiare o lavorativo. Però, ecco, questo aprirsi ha portato a un, come dire, a un dover cambiare, questa rivelazione, questa apertura che c'è stata da parte di qualcuno, ha fatto sì che un po' cambiassero tutto quello che erano le certezze, tutto quello che era la fase di espansione in cui si era. Vedo che c'è anche un 10 di spade, quindi c'è una sofferenza. Probabilmente è quella di cui mi parla anche il 5 di coppe. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro dicono i tarocchi. Per la vergine. 7 di bastoni. Tenete duro. Lottate. E proprio, guardate. Verso febbraio c'è quasi una, come dicevo prima, una rivalutazione di quello che è la situazione precedente. Il 7 di spade, 7 di bastoni questo. C'è qualche cosa che probabilmente non vi raccontate in modo giusto. L'imperatore, il 2 di coppe, il 3 di coppe e il 4 di spade. L'ultima fila è tutta a rovescio. Allora, sento che è come se qualcuno si fosse stancato di una situazione. Per qualcuno potrebbe essere legato a una persona che un po' scappa, che dice delle bugie, che non la racconta giusta, una persona che magari ha un atteggiamento non proprio chiaro. Ed è da lì che poi parte, diciamo, a marzo, una sorta di instabilità per quello che riguarda la relazione in questione, che potrebbe essere con il 2 di coppe una relazione amorosa, ma anche semplicemente una relazione di tipo lavorativo. Ognuno poi lo applichi alla propria realtà. C'è un 3 di coppe, è come se qualcuno aspettasse un ritorno, ma per certi versi si fosse un po' stufato di stare lì fermo ad aspettare un qualche cosa che non arriva. È come se tutto partisse da questo asso di coppe. C'è una rivelazione che verrà fatta a fine anno. C'è un qualche cosa che verrà detto. E da lì parte tutto una sorta di movimento interno ed anche esterno, io direi. Perché comunque poi arriva un determinato tipo di sofferenza collegato a quello che è l'imperatrice a rovescio, quindi al senso di non abbondanza, al senso di questa morte che, insomma, non dà speranza per quello che è un cambiamento delle cose. C'è comunque questa energia di questa persona che scappa, che comunque racconta delle bugie, che non è completamente onessa. Per qualcuno potrebbe essere proprio riferito a una persona del passato comunque, qualcuno che torna e che non sia poi così onesso, diciamo. Bene, andiamo a vedere che altro messaggio hanno le fatine per i nostri amici della Vergine. Vediamo qualche consiglio in più, qualche frase su cui meditare per gli amici della Vergine. Grazie. Non attaccamento. Non attaccamento. Sì. Quindi l'imperatore normalmente al dritto parla di rigidità. Qui è a rovescio, quindi ce lo vedo con questo non attaccamento. Diventare un po' più flessibile, un po' più morbidi, di lasciare andare, imparare a lasciare andare non solo le cose di tipo materiale, ma proprio anche i sentimenti come la rabbia, la delusione. Imparare proprio a lasciare andare. Umiltà. Quindi non partiamo sempre dal presupposto di aver ragione noi, che la nostra sia la verità assoluta. Insomma, cerchiamo anche di essere umili e io ci metterei anche compassionevoli nei confronti degli altri. Autenticità. Ecco, quindi non indossate maschere, non raccontatevi bugie. Cercate di essere onesti sia nei confronti di voi stessi sia nei confronti degli altri, insomma. Bene, Vergine, questo è quello che avevo per te per l'autunno-inverno 2021-2022. Sono inverno, scusate. E spero che in qualche modo la lettura vi abbia potuto aiutare. Se sì, mettete un like al video, iscrivetevi al canale e condividete. Io vi ringrazio tantissimo per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.